e si sono quasi sentiti in dovere di dire purtroppo per colpa di Danny adesso stai ricevendo una shitstorm io dico solamente che le shitstorm sono sempre esistite non le ho inventate io e sono solamente il frutto di un comportamento che viene fatto pubblicamente e che grazie a Dio non viene accettato quello che è stato fatto a me non è una reazione ad un mio comportamento pubblico quello che mi è stato fatto però è stato raccontare un fatto mio personale che non volevo si sapesse un fatto mio personale che in un momento come quello eh, lo capisco no, si sente il trasporto in questa cosa perché poi parte da una roba decisamente personale quindi ci sta giudicare il comportamento pubblico non quello privato